Grazie a Maurizio Cannona, monitor immobiliare, per l'invito. Credo che Reitaly proponga ormai ogni anno le occasioni di confronto su quelli che sono i driver del mercato dell'anno in corso e degli anni successivi. In questo caso ci propone un tema che non è nuovo, è un tema che ciclicamente affrontiamo come elemento di interesse per quanto riguarda il settore immobiliare. Crediamo che in questa situazione ci sia qualcosa di più rispetto a quella ciclicità che aveva caratterizzato in edizioni passate, perché ci sono elementi di un rafforzamento strutturale del settore dell'hotellerie e cercheremo di capire nel corso della presentazione quali sono questi elementi. Innanzitutto proviamo a circoscrivere il settore dell'hospitality. L'hospitality è un settore ampio che comprende strutture ricettive, servizi di ristorazione, viaggi e turismo. È chiaro che in questa sede l'interesse è sul comparto immobiliare, quindi su tutto quello che riguarda lo sviluppo, la gestione e l'investimento, soprattutto nelle strutture alberghiere. Il momento appare propizio perché al di là di un rallentamento economico in corso, di segnali di affaticamento dell'economia, ci sono elementi di vitalità in un quadro di rallentamento. In particolare l'elemento dei consumi è un elemento importante per quanto riguarda la dinamica economica generale e in particolare la dinamica del settore. Questi elementi in un quadro di rallentamento dell'inflazione ci inducono a ritenere che ci siano all'interno del contesto macroeconomico comunque dei fondamentali di solidità per quanto riguarda il settore turistico, in particolare per quanto riguarda il settore alberghiero. Un elemento di indubbia forza del settore rappresentato da quella che è stata ed è tuttora la dinamica in termini di afflussi turistici. Siamo in molti casi tornati sui livelli pre-pandemia, a questo hanno contribuito fattori sia di natura emotiva che di risparmio accumulato durante la pandemia che si sono tradotti in un autentico boom turistico. Se prendiamo soprattutto le principali città d'arte siamo su livelli nettamente superiori a quelli che erano i livelli del 2019 e testimoniano un'attrattività formidabile che in qualche modo ridefinisce le dimensioni di un mercato potenziale. Se guardiamo i numeri ci rendiamo conto che sono aumentati tutti gli indicatori, la spesa complessiva, il numero di pernottamenti, la spesa media per notte. Qui è chiaro che c'è un effetto dovuto all'inflazione, le dinamiche dell'indice generale dei prezzi, però c'è altrettanto un elemento che riguarda la numerosità di questi afflussi che in qualche modo ridefiniscono le dimensioni di un mercato potenziale. Non è solo clientela leisure, quindi non è solo la componente viaggi di svago, c'è un elemento business in questa crescita. Noi abbiamo preso l'attività fieristica come proxy di un'attrattività del segmento business, ma ovviamente ci sono altri indicatori che in qualche modo completano la dimensione dell'attrattività soprattutto delle grandi città in qualche modo rafforzano le tendenze in atto e non le circoscrivono esclusivamente alla componente leisure. Questi fattori di domanda si sono tradotti inevitabilmente in una grande crescita del comparto. Qualsiasi indicatore che andiamo a considerare, che siano quelli di tariffa media, che ovviamente risentono dell'inflazione, ma non solo, ha tutti gli elementi di occupancy o di redditività delle strutture, in qualche modo traducono nel linguaggio immobiliare i fenomeni di intensificazione della domanda e di riproposizione dei nostri mercati su livelli analoghi, se non addirittura superiori a quelle pre-pandemie. Allora questi elementi di contesto, di domanda, di forza relativa in qualche modo rappresentano un'opportunità per accelerare una trasformazione del comparto. Comparto che ha cambiato in parte pelle negli ultimi anni, negli ultimi 40 anni si è ridotto il numero di strutture, c'è stato un riposizionamento verso strutture di fascia più elevata, quindi si è passati da strutture a 1, 2 stelle, molto spesso a strutture a 3, 4 e 5 stelle. Questo ha determinato un aumento della dimensione media delle strutture, quindi nonostante ci sia stato un calo di circa 10.000 unità delle strutture ricettive, c'è stata una sostanziale invarianza del numero di stanze disponibili, proprio perché le strutture mediamente più qualificate sono di dimensione più grande rispetto alle strutture piccole. È un riposizionamento del comparto che non può dirsi esaurito, che va completato. L'incidenza in Italia delle strutture di catena è sicuramente inferiore rispetto all'estero e questo rappresenta un'opportunità di ulteriore crescita in termini di offerta ed è un'ulteriore crescita che in qualche modo è supportata da quegli elementi di domanda e di contesto che sono nuovamente favorevoli. Non c'è solo un riposizionamento, c'è anche in parte una sostituzione della componente medio-bassa in termini di offerta. Una componente che si è spostata in termini di offerta alberghiera verso l'alto e che è stata rimpiazzata da forme alternative che talvolta vengono gestite in maniera imprenditoriale, talvolta in maniera occasionale se non addirittura improvvisata. Questo ha di fatto comportato un cambiamento all'interno del settore che da una parte ha integrato l'offerta. Cioè quella componente alberghiera che è venuta meno è stata rimpiazzata da bed and breakfast piuttosto che strutture di affetto breve ma allo stesso tempo questo fenomeno ha comportato un drenaggio di offerta dal segmento residenziale a vantaggio del segmento turistico alberghiero. Questo è inevitabilmente un fattore di distorsione che se da una parte in qualche modo integra l'offerta ricettiva dall'altra priva le città di un elemento importante di ospitalità per una utenza che invece è di medio lungo periodo proprio perché quegli elementi di redditività del segmento alberghiero non si possono in qualche modo riproporre sul segmento residenziale. In questo contesto di crescita, di solidità e di buone prospettive non stupisce l'interesse degli investitori immobiliari per quanto riguarda il settore alberghiero in particolare. Settore alberghiero che in qualche modo beneficia di virtù proprie che sono quelle che ho cercato di sintetizzare ma beneficia al tempo stesso delle difficoltà di settori alternativi che sono i settori principali, in particolare l'office, il retail, negli ultimi anni anche la logistica. Ecco, è indubbio che ci sia stato e ci sia ciclicamente uno spostamento di interesse in funzione delle difficoltà che si possono incontrare su segmenti diversi rispetto a quelli del turistico alberghiero. Per quanto il settore sia notevolmente cresciuto ci sono ancora enormi margini di crescita potenziale sia nelle grandi città che su tutto il territorio nazionale. Il turistico ricettiva un settore tra virgolette democratico in cui le opportunità non sono limitate ai grandi centri. È chiaro che occorra professionalità e occorrono analisi preliminari, però le opportunità non sono limitate solo ai grandi centri urbani, a quelli che fanno più notizia. C'è un elemento che in qualche modo ha favorito e tuttora favorisce l'interesse verso il settore turistico ricettivo che è rappresentato da repricing dei settori alternativi. È indubbio che le difficoltà degli ultimi mesi sui settori diversi abbiano in qualche modo spostato l'interesse e quello che dovremo capire nel corso di quest'anno e dei prossimi se si tratta di uno spostamento di interesse strutturale o ci siano degli elementi di congiunturalità legati alle difficoltà che sono destinati inevitabilmente a rientrare dei settori alternativi. Ecco che quel repricing che caratterizza tuttora alcuni dei settori alternativi non rappresenta una minaccia o almeno lo rappresenta in maniera molto più contenuta per quanto riguarda il settore alberghiero. C'è ancora uno spread favorevole nella maggior parte dei casi che in qualche modo induce a pensare che questo settore per quest'anno almeno possa essere un settore di sicuro interesse per quanto riguarda gli investitori. E chiudo con quella che è la sintesi rispetto a queste dinamiche. Abbiamo buoni fondamentali, gli afflussi sono significativi, non ci sono ancora segnali di cedimento rispetto alle dinamiche recenti. Abbiamo un comparto che si sta riposizionando ed è un riposizionamento lento, graduale che in qualche modo offre ampi spazi di crescita per quanto riguarda le potenzialità di investimento e non ci sono evidenze, come invece accade in altri comparti, di un surriscaldamento dei prezzi. Questi elementi ci inducono a pensare che per l'hospitality in generale e per l'housing sia un momento particolarmente propizio. Solo il tempo ci dirà se è uno spostamento in questo caso strutturale o come è avvenuto in passato in epoche diverse, si tratti di un'infatuazione congiunturale destinata a ridursi e a perdere di intensità con il ritorno di interesse verso i settori principali. Vi ringrazio per l'attenzione.